Un 2022 contraddistinto dal rincaro delle materie prime è esploso con il conflitto Russia-Ucraina, con l'aggiunta dell'impatto dirompente di un'annata calda e siccitosa che per la provincia di Brescia ha avuto un effetto mai registrato in precedenza, con temperatura al di sopra della media e scarsità di pioggia e neve. Questi temi centrali dell'annata agraria 2021-2022 presentate alla presenza del presidente Walter Giacomelli, del direttore di Coldiretti Brescia Massimo Albano e del vice direttore Mauro Belloli. Per quanto riguarda il 2022 Coldiretti aveva chiesto al governo una serie di provvedimenti che in parte sono stati attuati, pensiamo al discorso del digestato che deve essere equiparato a un fertilizzante, anche se tutt'oggi stiamo ancora aspettando i decreti attuativi. Per quanto riguarda, erano stati stanziati 1 miliardo e 300 milioni per quanto riguarda il posizionamento dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture agricole, che dovrebbe portare ad avere una certa autosufficienza a livello energetico da parte delle aziende agricole. per cui poi ci sono stati stanziati dei provvedimenti per quanto riguarda gli aiuti e alle filiere che hanno attenuato un po' la criticità per quanto riguarda l'annata 2022. In prospettiva stiamo chiedendo al governo, anche tra le altre cose, si chiede che le nostre aziende siano equiparate ad aziende energivore, per cui possono beneficiare di quegli aiuti che generalmente beneficiano le aziende energivore, anche perché noi siamo un settore che non beneficia di ammortizzatori sociali, non possiamo beneficiare di tipo uno a caso, la cassa integrazione, per cui noi siamo costretti, siamo un po' obbligati a mantenere attive le nostre aziende, anche se spesso siamo nelle condizioni che le nostre aziende stanno producendo in perdita, però non siamo, come ho detto prima, nelle condizioni di chiudere, perché chiudere un'azienda agricola vorrebbe dire non riaprirla più, vorrebbe dire impoverire un territorio, vorrebbe dire che verrebbe meno un indotto sul territorio, perché non dimentichiamoci quello che creano l'azienda agricola a livello di indotto che pesa per circa il 18% del PIL a livello nazionale. Ma io penso di sì, il consumatore deve credere, deve essere anche di supporto alle aziende agricole, perché le aziende agricole producono bene di primaria importanza, producono cibo senza azienda agricola, il cibo verrebbe meno, mancherebbe il cibo sulla tavola, a meno che si voglia dare spazio a quello che sta avvenendo avanti, ma come col diretti cercheremo in tutti i modi di opporci, e mi riferisco ai cibi sintetici, siccome ci sono dei gruppi che hanno delle risorse a disposizione immense, che stanno spingendo, perché vengono portate sulle tavole i cibi prodotti in laboratorio, mi riferisco ai cibi prodotti in laboratorio per quanto riguarda la carne, il latte, il pesce, però noi non vogliamo rifiutarci di considerarli cibi, perché a mio modo di vedere non può essere considerato un cibo che viene prodotto in un laboratorio, ma il cibo è ciò che viene prodotto attraverso una coltivazione, attraverso la terra, attraverso un albero, che è frutto di una certa biodiversità, che è data dal territorio, dall'ambiente, dal sole, da quello che rappresentiamo come territorio italiano dove tutto il mondo ci invidia. Inoltre in occasione della presentazione dell'annata agraria è stata anche avviata ufficialmente a Brescia la raccolta firme per la petizione contro il cibo sintetico. Noi abbiamo cominciato ieri a raccogliere firme per questa petizione che vuole essere un messaggio molto forte alla politica per far sì che ci sia una legge in tempi brevissimi che vieti la produzione di carne sintetica, latte sintetico, insomma tutti i prodotti agroalimentari italiani sintetici, perché crediamo che la nostra agricoltura, la nostra cultura non possa permettere l'entrata nel nostro paese di questi prodotti. Questa raccolta firme è iniziata ieri e l'obiettivo è quello di 100.000 firme nell'arco di una settimana in modo da dare alla politica la forza di promuovere questa normativa. e si potrà firmare in tutte le sedi dell'Accordiretti in provincia di Brescia, sul sito dell'Accordiretti Brescia si può vedere dove sono, è la nostra sede provinciale. Chiaro che questo è un lavoro che verrà fatto tutto territorio nazionale, perché non riguarda solo la nostra provincia, ma riguarda tutta l'Italia e tutto il nostro paese. Poi avremo poi chiaramente tutte le nostre possibilità, quindi anche durante i giornati di ringraziamento che stiamo facendo la domenica, nel nostro mercato coperto qua in Via Cremona, nei nostri banchetti, nei nostri mercati settimanali, e chiaramente tutti i consumatori sono invitati veramente a firmare, perché è una battaglia veramente di coscienza e di cultura italiana.